Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti, buonasera a questo nuovo appuntamento con la nostra emittente, il canale 80 del Digitale Terrestre, un approfondimento interessantissimo perché abbiamo ospiti in studio, qui negli studi di Via degli Abeti di Rossini TV, due sanitari, due sanitari che ci parleranno di una realtà importante sul territorio cittadino ma ci daranno l'opportunità di approfondire altre tante situazioni che di questi tempi sono davvero molto interessanti da comprendere. Quindi benvenuti, buonasera alla dottoressa Michela Lapi. Buonasera. E buonasera al dottor Fiorenzo Gianmattei. Buonasera. Sono tutti e due collaboratori del laboratorio Città di Pesaro che è situato in pieno centro cittadino, è un laboratorio di analisi quindi un laboratorio che svolge una funzione sul territorio davvero molto importante e l'abbiamo visto soprattutto in occasione degli ultimi tre anni quando comunque con la pandemia molto spesso è stato fra virgolette preso un pochino d'assalto per tanti motivi con file al di fuori della porta e tante persone che vi facevano riferimento perché appunto l'abbiamo detto è un laboratorio situato in una ben precisa area cittadina dove c'è bisogno di servizi sul territorio e il laboratorio Città di Pesaro convenzionato col sistema sanitario nazionale ha svolto al meglio la sua funzione e di questo cominciamo a parlarne subito con Michela Lapi. Sì, allora il nostro laboratorio, il laboratorio Città di Pesaro è un laboratorio che si occupa di diverse branche, biologia clinica, microbiologia, immunologia e abbiamo anche delle branche specializzate. La branca più di eccellenza del nostro laboratorio è l'allergologia. Poi abbiamo anche altre specialità per quanto riguarda la biologia molecolare per esempio. Sì, infatti non a caso abbiamo ospite il dottor Gian Mattei che è stato primario al reparto di allergologia dell'ospedale di Fano quindi una grande esperienza nel settore quindi con lui poi affronteremo l'aspetto che veramente ci interessa sul quale vogliamo fare tanta chiarezza quello che riguarda le allergie e come affrontare e curare le allergie. Io la dottoressa Michela, però volevo chiedere anche come sono stati vissuti questi anni, questi due o tre anni io so che lei collabora con il laboratorio da circa due anni quindi è arrivata, se così possiamo dire, in pieno Covid. Sì, esatto. Eh, diciamo che questi anni hanno pesato molto sul nostro lavoro al di fuori anche dell'orario normale, cioè abbiamo lavorato veramente tanto anche quello che la gente non sa per quanto riguarda i tamponi per esempio, tutto quello che c'è dietro, l'invio in regione, tutte queste cose sono state tante difficoltà messe insieme anche al lavoro di routine perché comunque sia non abbiamo mai abbandonato i nostri pazienti per quanto riguarda le analisi normali quindi è stato un grandissimo lavoro, io l'ho preso in pieno da quando sono arrivata ma comunque possiamo dire che ce la siamo cavate greggiamente diciamo. Sì, sì, è stato affrontato sicuramente in maniera molto molto congrua con grandissima risposta alle attese delle persone, dicevamo queste file che vedevamo al di fuori del laboratorio Città di Pesaro che comunque venivano continuamente smaltite. Ora invece dottoressa da questo punto di vista l'emergenza è un po' superata? Adesso devo dire che sì, è abbastanza rientrata per quanto riguarda il numero di tamponi di pazienti, sì. Siamo in una condizione di quasi normalità, chiaramente probabilmente adesso anche è molto più facile accedere alle prestazioni rispetto a prima perché siamo tornati concentrati sulle analisi. Sì, sì, cioè le file per i tamponi non ci sono più devo dire onestamente, ne facciamo un numero veramente ridotto al giorno, quindi sono contenta in realtà di questo, devo dire. D'altronde anche l'ultimo bollettino settimanale che qualche giorno fa è stato emanato ci mette abbastanza un po' di tranquillità per quello che riguarda il Covid, sembra che sia tutto abbastanza sotto controllo. Dottor Gianmattei, veniamo alla questione dell'allergologia, poi torneremo sulla biologia molecolare dopo con la dottoressa Lapi perché affronterà un tema molto interessante che nella precisione è? In particolare la biologia molecolare applicata alla ricerca delle malattie sessualmente trasmissibili. Perfetto, quindi dopo andremo ad affrontare questo argomento. Invece col dottor Gianmattei, vista e considerata anche la sua esperienza, andiamo a parlare di allergie ma soprattutto prima andiamo a inquadrare cosa fa il laboratorio Città di Pesaro di così straordinario in questo settore. Allora, io sono un collaboratore esterno del laboratorio, quindi sono un consulente. Perché? Perché il mio rapporto professionale e non solo con il dottor Rossi, il direttore del laboratorio, ha radici lontane. Allora lui aveva un piccolo laboratorio a Fossombrone e già da allora collaboravamo nel settore della regologia che era piuttosto carente nella nostra provincia. Tant'è vero che siamo stati i primi in provincia a fare un esame che ancora tutt'oggi si fa, che è il dosaggio delle GIE specifiche, meglio conosciuto come RAST e allora lo facevamo solo noi. Poi da lì mi ha cominciato a collaborare con delle ditte di Milano, mi ha fatto corsi di aggiornamento, congresse e quant'altro. Poi lui naturalmente si è spostato e cresciuto, è diventato il più grande laboratorio di Pesaro e gli è rimasta però la passione della regologia. Quindi ha approfondito nel suo laboratorio questo settore e quando è uscito un nuovo metodo di cui adesso parlerò, mi ha voluto come collaboratore. perché? Perché appunto avendo questa storia di collaborazione antica, siccome questo metodo è, io ero già andato in pensione, ho accettato questa cosa perché mi ha appassionato, perché è un metodo eccezionale in cui si dosano esattamente 300 allergeni, noi eravamo abituati a dosarne 5, 10, 15, 20, non di più, sia perché non erano in produzione, ma soprattutto anche per gli alti costi. Invece questo è un micro metodo in cui con delle piccole quantità si riescono a dosare una quantità enorme di allergeni. Ci faccia dire una cosa dottore, una piccola battuta. Quindi il dottor Rossi si può dire che ha unito l'utile al dilettevole perché ha scelto di lavorare con una persona che conosceva quasi un amico di percorso professionale, ma molto esperto nel settore anche per la sua esperienza professionale, quindi è andato proprio a mirare al centro del problema. Sì, perché il suo, il nostro, posso dire, pallino, è quello proprio non di fare, diciamo ma i laboratori c'è il peso, fanno l'ergologia, fanno il RAST, fanno, no, è un vero e proprio centro regologico, da A alla Z, perché al di là di questo metodo innovativo, facciamo tutti i classici metodi che si fanno ovunque nei centri allergologici, dal prick test al patch test, poi volendo possiamo entrare nei dettagli, ma ovviamente diventa un po' lungo. Che sarebbero per spiegare dei test, diciamo, di prima battuta per individuare. Esatto, gli altri sono delle prove cutanee, sono dei ceroti che si mettono nella schiena, questo RAST che dicevamo prima, che negli anni si è molto evoluto, per cui ha aumentato il numero di allergeni, la specificità, la riproducibilità, eccetera. E ultimo, questo, i test per le tolleranze, quindi è a tutto tondo il paziente che ha un sospetto di allergia, lì trova qualsiasi tipo di applicazione per poter fare una diagnosi corretta. E il laboratorio, il compito del laboratorio finisce lì, diagnosi. Certo. E a quel punto però il percorso è incompleto, manca poi la terapia che a volte, nei casi specifici, diventa anche immunoterapia specifica. Quello che comunemente viene chiamato vaccino, che vaccino non è, però ormai la gente lo chiama così, in realtà è immunoterapia specifica, che dà dei risultati grandiosi. Quindi è, come dicevo, un percorso completo che fa il paziente, che ha problemi di tipo allergologico. Quindi si apre e si chiude il cerchio. Ci parli, dottore, di questa metodologia innovativa alla quale ha fatto riferimento? Sì, questa è una metodologia che fino a poco fa Rossi aveva l'esclusiva per la regione Marche. Adesso comunque ce l'ha per la provincia di Pesaro. Sono appunto un micrometodo che ti permette di analizzare non solo più allergeni di quelli che ti permettono le diagnostiche tradizionali, ma quelli che sono gli allergeni ricombinanti. Una domanda, dottore. Questo che è il nuovo campo. Gli allergeni sarebbero in realtà gli elementi scatenanti dell'allergia. Bravo, perfetto. Quindi se uno dice, io sono positivo al grano, vuol dire che tu non devi mangiare il grano. Perfetto. Ma con l'avvento di questi ricombinanti siamo andati a entrare meglio, non più grano, ma che tipo di grano? Integrale o no? Tu sei allergico al germe, piuttosto che alla gliadina, piuttosto che al glutine. Una volta dicevamo grano, punto. Adesso invece entriamo nel dettaglio. È un po' come dire, una volta dice, io faccio un test allergico, l'allergologo mi ha detto che sono allergico, che ne so, alla torta californiana, che è composta dalla crema, varie frutte, eccetera, eccetera. Oggi invece noi non diciamo più tu sei allergico e quindi non devi mangiare la torta californiana. Oggi invece noi andiamo nel dettaglio e vediamo se sei allergico alla torta, alla crema, alla fragola, al lampone, al kiwi. Per cui io non ti dico più non mangiare la torta californiana. mangia la torta californiana, però senza kiwi. Quindi questo è un esempio per far capire. Ha reso perfettamente l'idea. Non è esattamente così, però è un po' come il latte. Una volta si dice, allergico al latte, punto. Oggi diciamo allergico alla lato buvina, alla lato globulina, alla caseina. E questo poi comporta a livello dietetico delle cose importanti. Come dicevo prima, del glutine, piuttosto che della gliadina, eccetera, eccetera. E questo si fa attraverso un prelievo? Un semplice prelievo di sangue per il quale non occorre neanche il digiuno. Per cui di solito noi lo facciamo in tempo reale. Il paziente viene, fa il prelievo, fa la visita, fa il prelievo. Poi la settimana dopo ritorna per la risposta, che fa sempre parte della stessa visita. Quindi non sono due visite. E a quel punto io avrò in mano questo risultato di questo Alex e quindi potrò dire, lei è allergica a questo, 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 deve evitare questo, questo, questo. La terapia è questa, l'eventuale vaccino è questo, eccetera, eccetera. Anzi, a differenza, dottore, delle analisi comune, ci faccia dire, in questo caso andiamo a fare l'analisi per l'allergologia mangiando tutto. Eh sì, certo. In modo tale che... Eliminando solo quello che è strettamente necessario. Esatto. A volte mi capita dei pazienti che arrivano, ah, il mio medico mi ha detto di eliminare il latte, l'uovo, il pesce. Eh, la miseria. Ma come, ma i test dei fatti? No. Eh, ma io non mangio niente, sono dimagrito. Perché? Perché spesso ci si basa su quelli che sono i dati statistici. Cioè, è chiaro che a livello statistico, quello che dà più spesso allergie, insomma, il grano, il latte, l'uovo, è vero. Ma la statistica è quella del mezzo pollo, no? Cioè, se io mangio un pollo intero, lei non mangia niente, abbiamo mangiato mezzo pollo per uno. Quindi voglio dire, invece che basarsi sulla statistica, basiamoci sui dati di fatto, andiamo a vedere realmente a cosa si è allergico, ma entrando nello specifico, entrando nel dettaglio, si è allergico alla pesca, ma cosa? Alla buccia o alla polpa? E poi la puoi mangiare cruda o anche cotta? Viene denaturata con la digestione o no? Sono dettagli che una volta ci sognavamo, oggi invece è realtà. È una realtà che si può applicare appunto al laboratorio Città di Pesaro, dove esiste questa possibilità, grazie all'intervento suo, che quindi lei a tutti gli effetti fa una vera e propria diagnosi. Certo, noi praticamente io e insieme al laboratorio chiudiamo il cerchio, cominciamo dall'inizio, anamnesi, visita, diagnosi, terapia. Perfetto, ecco. Allora, quindi è sicuramente una strada da seguire, oltretutto questa trasmissione è temporizzata alla fine di febbraio, inizio marzo, perché? Perché andremo verso una stagione nella quale le allergie si faranno molto sentire, e già si cominciano a vedere in giro persone che hanno queste problematiche. E proprio a questo proposito, dottore, noi abbiamo approfittato, sentendo alcune persone, avendo l'opportunità questa mattina di parlare con lei, per sentire, ma se tu dovessi chiedere qualcosa di specifico a uno specialista con grande esperienza nell'allergologia, cosa gli chiederesti? E la prima domanda che mi è stata riportata è proprio forse la più semplice come risposta, ma non è detto che lo sia, quali sono le differenze fra intolleranze e allergie? Le differenze per noi sono sostanziali. Capisco, perché dall'esperienza lo vedo, dalle domande che fanno i pazienti, che per la gente comune sono due cose molto simili, in realtà sono due cose completamente diverse. Innanzitutto il meccanismo immunologico, entro appena nel dettaglio, ma le allergie sono, noi diciamo, IgE immediate, cioè prevedono l'intervento di anticorpi, come nel caso delle infezioni, no? Quindi il famoso antigene scatena una reazione di anticorpi. Esatto, che in questo caso sono di tipo IgE, vabbè, comunque sono anticorpi. Esatto. Nell'intolleranze questa cosa non c'è, quindi non c'è la formazione di anticorpi, per cui sempre l'antigene entra a contatto con il nostro sistema immunocompetente, ma non scatena la formazione di anticorpi. Va a innescare altri meccanismi di attivazione indiretta, che noi chiamiamo che attivano le citochine, attivano tutta una serie di cose complicatissime, e che possono dare sintomatologie simili a quelle allergiche. Però, come dicevo, di base sono totalmente diverse. Le allergie possono essere anche molto gravi, addirittura, come abbiamo visto anche recentemente dalla cronaca, portare anche alla morte. L'intolleranze no. È il caso di un ristorante che recentemente purtroppo ha servito, non qui nella nostra regione, un piatto che sarebbe dovuto essere vegano, e invece c'erano tracce di... Ecco, lei ha detto una parola precisa, tracce. Tracce. Perché in allergologia bastano tracce. Cioè, mentre per l'intolleranza dipende dalla quantità, se uno è intollerante alla fragola, ne deve mangiare tanta per avere la reazione. Se invece sei allergico alla fragola, ne basta una mezza, un quarto, pochissimo. In più, nell'intolleranza le reazioni sono... avvengono anche a distanza di tempo. Le allergie sono immediate. Sono immediate. Infatti, di solito, appunto, uno va al ristorante, c'è la reazione allergica subito, dentro l'istorante, perché sono immediate. E in questi casi bisognerebbe sempre avere strumenti medicinali di primo soccorso, per esempio cortisonici, cose che possono aiutare a bloccare, per esempio, proprio la... Per chi sa di essere allergico, e chi non lo sa dovrebbe, secondo me, fare gli accertamenti, dovrebbe portarsi dietro una fiala di adrenalina, che è un farmaco salvavita. Certo. Poi, si va al pronto soccorso, d'accordo, ma intanto salvi la vita. Certo. Questo è molto... Especialmente per le punture di menottiri, che anche quella è la diagnosi che noi facciamo, e lì, anche lì, diventa molto importante avere l'adrenalina. Certo, infatti, vedete, il dottore ha sottolineato adrenalina. Io avevo detto, diciamo, in maniera un po' superficiale, cortisonici, perché in realtà il dottore ci spiega che il cortisonico, sì, ma comunque sia, è solo un antisintomatico, in realtà. Ecco. Cortisonico va bene, però dopo. Dopo. Cioè, io ho lo shock, mi faccio l'adrenalina, che blocca il meccanismo dello shock, lo scompenso contenuto, contenente. Vado al pronto soccorso, dove poi mi faranno cortisoni, antistaminici. Per forza, d'accordo, però l'importante è arrivare al cortisonico e al pronto soccorso in condizioni buone. Esatto, buone, certo. Quindi non è che basta fare la fiada adrenalina e siamo a posto, no. Però quello ti salva la vita. Poi dopo, le altre, perché poi anche lo shock, ci sono tanti tipi di shock. Sono quelli che durano poco, quello bifasico, cioè che magari lì per lì sembra tutto passato, e dopo un po' ti ritornano. Si ripresenta. Cioè, quello invece, quello prolungato, che dura giorni, cioè, poi va seguito in ambiente ospedaliero, chiaramente. Quindi pensate quanto è complesso. E allora, per esempio, ci avevano anche chiesto chi non ha mai avuto problemi di allergia e di colpo si prende il cortisone, deve far passare un certo lasso di tempo prima, per esempio, di fare gli accertamenti oppure può farlo subito? No, può farlo subito, solo per fare le cosiddette prove cutanee. Allora deve aspettare di aver finito la terapia, non solo cortisonica, ma soprattutto antistaminica, più che cortisonica. Ma per fare quell'esame che dicevamo, per fare questo prelievo di sangue, non occorre sospendere la terapia. E chiaramente, facendo il prelievo di sangue, facendo il relativo esame per accertarsi dell'eventualità di allergeni che possono dar fastidio, da quel punto si può vedere cosa non mangiare. Certo, ma ricordiamoci che questo test, che comprende 300 allergeni, comprende anche gli allergeni inalanti, comprende anche gli insetti, gli menotteri, tutta quella parte lì. Però è chiaro che, mentre, esempio tipico, arriva il paziente, sto male, ho il raffreddore, sternuti a maggio e giugno. Dico questo perché è il caso più frequente. Quello a cui arriveremo tra pochi mesi. Esatto, quello a cui arriveremo tra pochi mesi. In quel caso non c'è bisogno di fare un test di quel tipo. Basta fare, sempre prelievo di sangue, però quello che dicevamo prima, RAST, si fa solo per 7, 8 allergeni, quello che è, tra l'altro, mutuabile, e già da lì è quello sufficiente per vedere. Quindi, per questo è importante il primo acchito che io veda al paziente, perché in base a quello che io stabilisco, quali sono gli esami da fare, che non sempre sono questo famoso A, altre volte sono questo cerotto nella schiena, altre volte sono le prove cutanee, cioè si vede dal primo colloquio che ho il paziente. Ecco, l'importante è sapere che esiste nel centro di Pesaro, nel piena città, la possibilità di fare queste prove attraverso la collaborazione che lei ha con il laboratorio della città di Pesaro. Torniamo alla dottoressa Michela Lapi, perché lei aveva preannunciato prima che lei invece si occupa specificamente di biologia molecolare. Questa biologia molecolare è in termini, come le ho definiti io, un qualcosa un pochino di astratto, difficile capire di cosa sia poi effettivamente argomento, ma in realtà, nello specifico, qui c'è la possibilità di affrontare invece un'altra delle questioni dei nostri anni, cioè le malattie sessualmente trasmissibili. Dottoressa. Esatto, la biologia molecolare è una tecnica di indagine, l'abbiamo vista con il Covid, come lei ha citato prima, ma per quanto riguarda i tamponi è una tecnica di indagine la più precisa che ci sia, diciamo, però ha tanti campi di applicazione. Vorrei parlare di questo in particolare perché si ritiene ancora che le malattie sessualmente trasmissibili siano un tabù. Molte persone non sanno neanche la differenza tra i vari patogeni, quali sono le cause o anche le conseguenze che possono portare. Quindi per fare un po' di chiarezza e anche per dire, insomma, qual è il servizio che il nostro laboratorio offre. Allora, le malattie sessualmente trasmissibili diciamo che sono una vasta gamma di infezioni che comprendono varia natura virale, batterica, parassitaria e queste infezioni possono avere un decorso sintomatico o asintomatico. Purtroppo la stragrande maggioranza ricade in questo campo, quindi... Cioè nell'asintomatico, cioè non si sa nemmeno di averla, non danno sintomi clinici evidenti o i sintomi sono molto aspecifici, per esempio può essere un banale prurito intimo, quindi questo fa sì che le persone possano trasmetterle in modo inconsapevole, ma anche il fatto che queste infezioni sono presenti ma non diagnosticate comporta il fatto che queste evolvono, quindi possono anche avere conseguenze gravi tra cui non molti sanno che l'infertilità è una delle gravi conseguenze di alcune di queste infezioni. Quindi i test diagnostici sono praticamente l'unico strumento che noi abbiamo per poter diagnosticare queste malattie, per trattarle e anche per curarle, perché sono delle malattie che possono essere trattate al pari di tutte le altre, quindi c'è una cura, c'è una terapia e quindi si possono curare. Però è importante fare dei test, perché appunto molte persone non sanno neanche di averle, non hanno neanche nessun sintomo, quindi quello che noi offriamo presso il nostro laboratorio è una consulenza, quindi per guidare i pazienti nel grande mare, che sono queste patologie, perché molti non sanno neanche quali sono gli agenti eziologici che devo ricercare. Quindi offriamo una consulenza e sulla base di questa proponiamo un pacchetto, quindi per ricercare uno o più di questi, fare un pacchetto che sia studiato ad hoc per la persona e nello stesso, proprio nel nostro laboratorio anche, si può fare anche il prelievo, perché abbiamo delle ostetriche, degli specialisti appunto in grado di fare questi prelievi, questi tamponi, o comunque anche il semplice prelievo di sangue, analisi dell'urino, di altri fluidi biologici, per appunto indagare queste malattie. Oltre a questo, appunto, noi offriamo anche dei risultati molto rapidi, rispetto anche alla stragrande maggioranza degli altri laboratori, si parla di qualche giorno. Il fatto di fare questi pacchetti garantisce più che altro sia uno screening completo per i nostri pazienti, ma anche un vantaggio economico, perché come abbiamo imparato dal Covid, appunto i test molecolari, sono dei test un po' più costosi rispetto agli altri, quindi il fatto di fare questi pacchetti comporta anche un vantaggio economico per i pazienti che comunque non fa mai male. Peraltro è un vantaggio economico, non solo che non fa mai male, ma in questo preciso momento di congiuntura è essenziale, e permette di avere un approccio culturale molto più consapevole rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Perché? Portiamo l'esempio dell'HIV, che a cavallo fra gli anni 80 e 90 ha portato a un vero e proprio cambiamento dell'approccio sociale. In quel momento questa malattia all'inizio sembrava che fosse destinata, per esempio, solo agli omosessuali, ma sappiamo benissimo che così non è. Le malattie sessualmente trasmissibili, anzi, forse, nella sta grande maggioranza dei casi sono proprio quelle tra eterosessuali. E quindi, dovuti a tantissimi motivi, non per questo che possano essere appunto, come diceva la dottoressa, criticabili o condannabili, tutt'altro. Il problema è che esistono. Quindi avere la possibilità di affrontarli in maniera consapevole e con l'appoggio di una struttura che comunque effettivamente ti mette in condizioni di sapere quello che ti sta succedendo facilita ovviamente anche l'approccio mentale di una persona verso questa patologia. Giusto? Esatto, esatto. Esistono e oggi come ho, se posso aggiungere, esiste anche una terapia. Esatto. Per l'HIV non è risolutiva al 100%, però rispetto a quello che c'era appunto negli anni 80-90 che era praticamente incurabile. Esatto, però l'approccio culturale è fondamentale. Cioè qui non è questione, no, di fare distinzioni di generi, è semplicemente questione di affrontare il problema. E ci sono gli strumenti per poterlo fare. Sì, sì, ma all'epoca... Questi sono rivolte infatti a tutti, cioè non solo genere e sesso, ma anche a tutte le età. Esatto. Quindi dai ragazzi, cioè quello che vediamo appunto anche io col mio lavoro da ragazzini, ma anche alle persone più adulte. Certo. Quindi è rivolto veramente a tutti questo test di screening. E sarebbe il caso davvero di fare tanta cultura sui giovani e giovanissimi per evitare poi problematiche che come prima ha detto la dottoressa, ha detto l'esempio dell'infertilità, poi magari non sarà la causa per la quale non nascono bambini in Italia, ma certamente una piccola parte, il percentuale ci sarà. Una coppia che magari cerca qualcosa e non riesce, magari non viene da pensare che potrebbe essere quello. Invece appunto è una delle cause che porta a non essere consapevoli di essere sterili fondamentalmente. Perfetto. L'abbiamo interrotta, dottore, anche perché siamo in conclusione della senata. Lei voleva dire che appunto in passato... No, in passato era nata nella comunità gay allora, ma poi loro presero la consapevolezza e gli etero invece la sottovalutarono. Esatto. E allora oggi è diventato, credo, questo non è il mio campo, ma credo che sia più frequente nei contatti eterosessuali che non in quelli omosessuali. È quello che abbiamo sottolineato. Allora, noi ringraziamo il dottor Gianmattei e la dottoressa Lampi. Siete stati davvero interessantissimi. Fatemelo dire perché crediamo che chi ci ha seguito abbia avuto delle notizie davvero molto, molto, molto interessanti. Bene. Dottore. Piacere di essere stato utile. Alla prossima. Alla prossima. Dottoressa. Alla prossima, grazie. Grazie. Grazie a voi che ci avete seguiti. sicuramente non ve ne sarete pentiti. Continuate la serata su Rosini TV. Buonasera a tutti. Grazie.